Attenzione perché il mondo tra poco toccherà il fondo, quindi ricicliamo a tutto tondo e teniamo sempre a mente il rispetto del pianeta e la salute dell'ambiente. Salve a tutti, sono l'insegnante Biancone Viviana della scuola primaria Luciana Masciangoli. Con la classe 1a B abbiamo rendito al progetto il sole in classe e l'esperta ha costato agli alunni le diverse energie rinnovabili e le cause del confinamento. Poi le insegnanti abbiamo approfondito queste tematiche, così tutti gli alunni hanno compreso l'importanza del rispetto dell'ambiente per garantire un futuro migliore, non soltanto alla nostra amata terra ma anche a se stessi. Se il prodotto che abbiamo realizzato vi piace, noi vi chiediamo di votare. Salve a tutti, sono Paola, un'ambasciatrice di Hunter e sono qui per ringraziare il dirigente scolastico e le insegnanti della scuola primaria Masciangoli dell'istituto comprensivo Mazzini Capograssi di Sulmona, che mi hanno gentilmente ospitato con le lezioni del sole in classe e dove i bambini della primaria in particolare hanno realizzato, nonostante la difficoltà della di atti a distanza dei bellissimi elaborati e quindi sono qui per chiedere di votarli con il vostro grande cuore e di questo vi ringrazio nuovamente. Grazie.